Benvenuto! Io sono Erika, la tua assistente virtuale. Sono stata progettata per aiutarti a comprendere cosa sono i PFAS e perché è importante conoscerli. Ti spiegherò come e quando nascono questi speciali composti chimici, perché vengono definiti inquinanti eterni e la loro relazione con acqua, cibo, ambiente e salute umana. Insieme scopriremo il ruolo della comunità scientifica e delle istituzioni in Italia, Europa e Stati Uniti. Clicca su Play e parliamo di PFAS!